Cioè, godiamo di questa vittoria, poi il Presidente ha fatto il discorso, quella partita con l'Atena sarà una partita molto difficile. Ci godiamo la vittoria, poi dal lunedì cominciamo a lavorare per questa superoccupazione, perché per noi è importante questo debito e vogliamo fare per tutto per vincere questo debito. E speriamo che rifaccio il gol nella prima squadra e mi farà molto piacere. Cristian, ma il 14 agosto tu eri in campo, in quel play-out? Cristian, che cosa ti passa per la testa adesso? Che cosa vuoi dire alla gente di Perugia che sta suonando il clacson davanti a Renato Curi? Sì, aspetta, dico che loro devono aspettare che stiamo arrivando, adesso tutti abbiamo finito la duccia, poi saremo sul pulmo e poi arriviamo, il 14 agosto è stato un giugno brutto, adesso è cancellato, pensiamo all'anno prossimo, poi... Senti che ti dice tuo allenatore? Sì, sì, c'è allo so che l'anno prossimo gioco di sabato!